Gesù sogna una società dove i privilegiati sono gli ultimi. La nostra società è molto diversa. Spesso c'è una lotta per mantenere i privilegi e questo non solo tra i potenti, lo potresti capire, ma anche tra i poveri. C'è una lotta tra poveri. Invece di veramente allearsi insieme contro i padroni, contro gli oppressori, facciamo la lotta tra di noi. E così continueranno a dominarci, anzi troveranno dei modi veramente più furbi di dominarci. Oggi in uno stesso posto di lavoro i lavoratori che ci sono possono avere quattro contratti diversi. Veramente i diritti sono calpestati. E questa abitudine invece di allearsi per il bene comune, ecco, di lottare per i propri privilegi, pensare solo a quello che il mio torna conto diventa il criterio con cui si vota, il criterio con cui si fanno le campagne elettorali. Essendo poi sempre di fatto presi in giro, ecco, perché non è possibile far promesse a tutti, non ce n'è per tutti, la torta non si può dividere in tanti pezzi. Ecco, invece di veramente costruire il bene comune, allora far qualcosa di buono per tutti. E anche le nazioni, tra le nazioni c'è questo egoismo crescente, ecco, dove per esempio le nazioni ricche devono sempre più impoverire le nazioni povere. Con questa lungimiranza che non esiste, perché veramente solo in un mondo dove tutti sono più ricchi, ecco, staremo tutti meglio. Ormai siamo interdipendenti, interconnessi, anche gli ultimi fatti ce lo hanno dimostrato, ma noi siamo sempre miopi. Ecco, la visione di Gesù privilegiare gli ultimi, ecco, sia a livello di nazioni, sia a livello sociale, è veramente la visione più moderna, la visione più efficace. Ce l'hanno dimostrato i papi, ecco, con le loro encicliche, con i loro insegnamenti, ma nessuno li ha ascoltati, da Paolo VI in poi. Ecco, le nostre città a volte sembrano costruite su misura del maschio adulto sano benestante. Se sei donna magari rischi, se sei giovane non c'è posto per te, se sei anziano sei isolato, se sei povero non parliamone. Invece bisogna rifarle su misura dell'handicappato, della donna, del bambino, del povero, del malato, dell'anziano e così ci sarà posto per tutti. Dio la pensa così. Dio non mette tutti sullo stesso piano, ma privilegia chi è più scartato, chi arriva dopo, chi ha meno possibilità. Lo abbiamo visto nel Vangelo, ha dato la stessa paga a quello dell'ultima ora, a quello che non era stato chiamato, a quello che era stato scartato. Così la pensa Dio. Le opere di Dio, attenzione, sono nate sempre partendo da qualcuno che era scartato, partendo dagli ultimi. Ad esempio, faccio solo un paio di esempi, ma ne potrei fare mille e mille. Don Zeno, il fondatore di Nomadelfia, che ha proposto a delle mamme di diventare mamme per vocazione e di prendersi cura di bambini abbandonati, che non avevano la mamma. Ecco che la prima mamma per vocazione era una ragazza scappata di casa. L'abbé Pierre, che in Francia ha fondato la comunità Emmaus senza fissa dimora per i più poveri. Ecco, il primo suo collaboratore è stato un mancato suicida. Non aveva niente, era disperato, voleva togliersi la vita e l'abbé Pierre, invece di fargli un discorso, gli ha detto vieni con me, dammi una mano, ho bisogno di te. Ecco, quando abbiamo veramente delle difficoltà, ad esempio a livello educativo, con un ragazzo magari che ci fa disperare, cosa facciamo? Scartiamolo, mandiamolo via. Addirittura nelle parrocchie, negli oratori abbiamo questa mentalità del mondo, questa mentalità teniamo i più buoni, eccetera. Che terribile, il Vangelo non entra nemmeno nella Chiesa, è terribile questa cosa. Invece dovremmo dire questo ragazzo è una risorsa, non è un problema, è da amare di più. Io quando facevo le elementari non andavo a catechismo, andavo fuori, stavo fuori a disturbare i ragazzi che facevano a catechismo, a dire le parolacce ed era una disperazione e qualcuno ha puntato su di me e qualcuno mi ha amato lo stesso e adesso sono diventato un sacerdote. Vedete, io sono la dimostrazione, un ragazzo disperato, un ragazzo casinista può diventare veramente qualche cosa. Abbiamo questo sguardo di Dio, questo sguardo che guarda più lontano, come dice nella prima lettura, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Ecco, Dio ha uno sguardo più lungimirante. Noi siamo stupidi, noi abbiamo una visuale corta, a tutti i livelli, vediamo le cose solo con le conseguenze immediate, invece Dio ha uno sguardo più lungimirante. Cerchiamo di guardare le cose con l'occhio di Dio. Dio privilegia gli ultimi perché vede più lontano, perché vede i poveri come una risorsa, vede i problemi come possibilità. Questa è veramente la rivoluzione che deve portare il cristiano nel mondo. Questo sguardo che spera sulle persone, che punta sulle persone, che punta sui più poveri, sui più scartati, sulle nazioni con più difficoltà, in tutti i campi, tutti i campi. Che bello. Sapete che questa frase mi aiuta al mattino. Quando mi ricordo questa frase, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, mi alzo più volentieri. E penso, ma Dio ha pensieri che io non conosco per questa giornata. Dio ha in mente qualcosa che io non so. Dio ha in mente delle sorprese. Dio veramente vuol farmi vedere le cose in un modo diverso. Vuol farmi incontrare persone che io non so che possono essere delle possibilità. Divento più aperto agli altri. Divento più aperto alle novità. Le novità di Dio, le sorprese di Dio. E allora avanti, avanti. Sogniamo anche noi questa società dove gli ultimi sono gli scartati. Realizziamo nella Chiesa, già nelle nostre comunità. Questa società, perché spesso in questo periodo di secolarizzazione, chi viene? Chi viene ad incontrare il Signore? Chi si è sentito scartato? Chi è fragile? Chi è debole? Chi ha delle ferite? Chi ha dei problemi? Ecco, loro sono veramente più disponibili. Perché? Perché hanno sentito la fragilità della vita. Ecco, che bello, no? Questa cosa deve essere un esempio. Dobbiamo dimostrare nelle nostre piccole comunità che è possibile una società diversa. Certamente è possibile, perché i sogni di Dio sono più reali della realtà dei giornali. Perché Dio è Dio? Dio può tutto. Sogniamo e diamoci da fare. Tiriamoci sulle maniche.